Ciao Roby! Ciao! Buongiorno! Allora oggi hai sempre la teghertellina e poi gli fai un po' di laser. Va bene, perfetto, ok. C'ha bisogno di qualcosa? Va bene. Va bene. Ciao Mario, buona giornata. Ciao, un piacere Alessandro. Ciao Matteo. Sei cascato, hai sbattuto? Sì, ho una palla bassa in bagger, ho sbattuto il gomito. Credo che ho un epicondilite. Facciamo 20 minuti totali di teghertellina. Tu sentirai un po' di calore? Con la prima modalità e niente. Poi, man mano che procederanno le sedute, il benessere migliorerà. Migliorerà, sì. Sposto il macchinario a lei e arrivo. Questo sarebbe? Questa è praticamente una struttura di metallo che va a chiudere il circolo. Quindi una corrente elettrica? Esatto. Questa crema si mette perché sennò il paziente si potrebbe bruciare. Ma qual è il punto di maggior dolore? Questo, qui. Si fa male spesso oppure la prima volta? No, non è la prima volta. Ma già dalla prima, ottengo risultati. Di solito dalla terza, quarta seduta comincio a tenere qualche risultato. Perché agendo sul metabolismo comunque... Ci vuole un po'. Ci vuole un pochino, si va a stimolare. Ovviamente non evita di arlenare. Posta riposa, eh? Esatto. Riposa, eh. Vabbè, grazie. Vabbè, grazie a tutti.